The day after. 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 basso rispetto allo standard. È un po' un dispiacere se dovesse fare questo. Il giorno dopo l'ingresso nella sede di Corso San Giorgio dei nuovi proprietari della banca Tercas, le nuove vetrofonie sulla figliare storica hanno dato concreta idea del cambiamento epocale per la vecchia cassa Teramana. In attesa di capire l'immediato futuro è nato un polo economico di assoluto rilievo finanziario. Vediamo il servizio. Banca Tercas come cassa di risparmio di orvieto o come popolari Bari Corporate Finance o come Caripe, ovvero un satellite di un sistema planetario che si chiama Popolare di Bari. Fate salve le discussioni se le realtà territoriali Teramana e Abruzzese siano ancora salvaguardate, quello nato ufficialmente ieri è un polo economico finanziario di dimensioni importanti. La galassia popolare di Bari con gli sportelli di Tercas e Caripe raggiunge i 3200 dipendenti, 400 figliari, 550 mila clienti e attività totali per 15 miliardi di euro. Una realtà che macina denaro e prodotti finanziari, che punta al profitto e è una rete territoriale che si estende dalla Basilicata fino alle Miglia Romagna. In questo contesto quale speranza hanno la Tercas e la Caripe di mantenere identità e tradizione? Serviranno solo da volano per introdurre clientela nel polo economico, come già accaduto per altre banche locali e entrate a far parte dei grandi gruppi finanziari. A tranquillizzare il tessuto economico locale ci pensa però lo stesso patron di BPB, Marco Iacobini. Grazie alla presenza della popolare di Bari, dice il Presidente, Banca Tercas e Banca Caripe potranno tornare ad essere protagoniste della vita economica del territorio su cui storicamente operano. La lunga fase di amministrazione straordinaria è finalmente cessata dunque e occorre voltare pagina da subito, ponendosi a disposizione del territorio e delle zone servite, soprattutto dell'Abruzzo, che, dice Iacobini, deve vedere Tercas e Caripe tornare a rivestire quel ruolo di banche di riferimento efficienti e dinamiche. Il Commissario di Banca Italia Sora dunque va via dopo aver eseguito un'altra delle sue autopsie a un istituto bancario, gestendo in ogni caso una complessa situazione finanziaria. Sora si sposta a Chieti e i sindacati dei bancari si preparano a studiare il piano industriale barese, sperando che eventuali fusioni o incorporazioni non buttino a mare le aspettative di tanti dipendenti e soprattutto di centinaia di clienti terramani. Intanto sono state rese note le composizioni del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale. Vediamo quali sono i nomi ricordando che anche in questo caso non ci sono terramani e ne abruzzesi. Assieme al Presidente Gianluca Brancadoro nel nuovo Consiglio di Amministrazione siedono Pasquale Lorusso con il ruolo di Vicepresidente, Gregorio Monachino, Luigi Iacobini, Paolo Calcagnini, Gianluca Iacobini che è designato come amministratore delegato, Nicola Ancona, Francesco Nardulli, Angelo Fabio Ostuni, Francesco Di Ciommo e Francesca Pace. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente Roberto Pirola, da Ignazio Pellecchia e Pierpaolo Marano che sono i sindaci effettivi e da Stefano Dellatti e Nicola Carone che sono i sindaci supplenti. Rimanendo sempre in tema di banche e di economia, non piace al mondo del credito cooperativo abruzzese l'ipotesi di riunirsi in società per azioni come pensato ed indicato dall'onorevole Paolo Tancredi a commento della posizione della Fondazione Tercas, ex proprietaria della banca finita nelle mani della Popolare di Bari ed elettrice di un patrimonio di 100 milioni di euro dei quali 20 o 30 disponibili per sostenere un nuovo polo economico finanziario locale che possano essere le BCC Teramane insieme a costituire questo polo viene respinta dal Presidente della Federazione Abruzzo e Molise delle banche di credito cooperativo, Alfredo Savini. Sottolineando la dinamicità dei nuovi istituti di credito della cooperazione con un risultato semestrale aggregato di oltre 10 milioni di euro di utili e una raccolta diretta di quasi 2 miliardi di euro, Savini sostiene che la forza è di essere banche cooperative indipendenti. La nostra anima, dice il Presidente della BCC di Castiglione e Pianella, è completamente diversa per statuto, è una vocazione di banca di territorio e comunità. Non abbiamo nessuna intenzione di diventare società per azioni né di venire meno alla nostra ispirazione. Rimaniamo fedeli alle nostre origini, alla nostra comunità e, conclude Savini, sono i numeri che dimostrano la nostra forza. Scatta l'aumento di 80 centesimi per i buoni pasto nelle scuole con il servizio di refezione a Teramo. La Giunta Comunale ha dato il via libera alla relativa delibera. Salve le famiglie con reddito sotto i 10.600 euro e confermate tutte le esenzioni del passato. Vediamo i dettagli nel servizio. Scatta l'aumento da 80 centesimi sui buoni pasto della refezione scolastica a Teramo. L'ok alla delibera è arrivato oggi in Giunta e fa seguito alla gara d'appalto con le ditte che curano il servizio. Confermate tutte le esenzioni del passato, così come la riduzione annunciata dal Sindaco per le famiglie con reddito oisee inferiore ai 10.600 euro. La delibera prevede un contributo di iscrizione annuale una tantum di 15 euro. Le tariffe per l'anno scolastico 2014-2015 sono le seguenti. 4,40 euro per i residenti del comune di Teramo, 3,60 euro per chi ha conseguito nell'anno precedente un reddito oisee del nucleo familiare non superiore ai 10.600 euro. In caso di mancata attestazione oisee entro il 31 ottobre, per quest'anno si applicherà d'ufficio la tariffa massima. Per i residenti fuori comune la tariffa è invece di 5 euro. Sono esentati dal pagamento della tariffa le famiglie con un reddito oisee inferiore a 10.600 euro e che rientrano in alcune categorie. Ad esempio, gli utenti residenti con forme di assistenza economica o per i quali si è intervenuto l'ufficio attività sociali del comune, quelli per cui è intervenuto il tribunale dei minorenni, i figli conviventi con un solo genitore disoccupato da più di tre mesi che abbia in affidamento il minore o ne curi l'assistenza. Essenzione anche per i portatori di handicap in condizioni di particolare gravità, i figli di genitori disoccupati da più di tre mesi e le famiglie numerose con tre o più figli a carico, purché residenti a Teramo. Per i bambini affetti da morbo celiaco, la tariffa è intera nel caso in cui il comune fornisca gli alimenti specifici per tale patologia. È invece ridotta del 50% se i prodotti sono forniti direttamente dagli utenti. Tutto invariato per le modalità di pagamento. Bisognerà strisciare il badge nelle apposite macchinette e ricaricare la tessera in una delle filiali della banca Tercas. Sulla bagarre in Commissione Vigilanza e Controllo del Comune di Teramo torna la minoranza. Per il Partito Democratico l'abbandono della seduta da parte della maggioranza è un atto di debolezza. Il Movimento 5 Stelle invece sostiene che la maggioranza non si confronta perché ha qualcosa da nascondere. E intanto, sulla manifestazione sportissimamente, il capogruppo Berardini attacca. Altro che costo zero per l'amministrazione. È costata 22 mila euro. Vediamo. Arroganza no, solo un atto di debolezza. Così il capogruppo del Partito Democratico e il Consiglio Comunale a Teramo, Gianguido d'Alberto, definisce l'atteggiamento della maggioranza che ieri ha abbandonato la seduta della Commissione di Vigilanza e Garanzia. Sì, ieri si è verificata una situazione inaudita sotto il profilo del rispetto istituzionale perché la maggioranza ha cercato nel tentativo di far venire meno il numero legale di impedire lo svolgimento della Commissione di Garanzia e Controllo cioè l'unica commissione che viene posta a tutela delle minoranze. Quello che nel tentativo del sindaco e della sua maggioranza era un atto di forza basato sui numeri di maggioranza che ovviamente ha rispetto all'opposizione in realtà si è tramutato in un atto di debolezza. Un atto di debolezza che denota tutte le difficoltà di questa maggioranza che denota l'incapacità di confrontarsi sui temi importanti della nostra città. Secondo il Movimento 5 Stelle, se la maggioranza si rifiuta di approfondire questioni importanti come quelle legate alla TEM e all'impiantistica sportiva, è perché ha qualcosa da nascondere? Sì, a noi non interessa la polemica. Noi volevamo andare in Commissione di Vigilanza e Garanzia a chiedere appunto delle risposte. Delle risposte per quanto riguarda i costi della terramoambiente perché noi vogliamo sapere con le nostre tasse cosa andiamo a pagare e perché queste tasse non diminuiscono negli anni. Facendo così, dal nostro punto di vista, l'amministrazione fa una non-informazione o una disinformazione come sta facendo anche in questi giorni. Ad esempio, per quanto riguarda Sportissimamente, che proprio il sindaco ha dichiarato che sarebbe costato solo 12.000 euro, invece proprio di questi dell'altro ieri, insomma la delibera in cui si aggiungono altri 10.000 euro al costo di questa manifestazione derivante dal BIM. Quindi questa manifestazione ci è costata 22.000 euro e non più 12.000. Ponte di Castelnuovo sul Vomano. La regione si schiera a fianco dei comuni di Castelalto e Cellino e dà il primo via libera al progetto per la costruzione di un nuovo ponte più a valle rispetto al precedente. Questa mattina l'incontro all'Aquila tra l'assessore regionale Pepe, la provincia e i rappresentanti dei due comuni. Vediamo. Il ponte sul fiume Vomano, conosciuto anche come ponte di Castelnuovo, sarà ricostruito a valle del preesistente con una spesa di 6 milioni di euro totalmente a carico della regione Abruzzo. Questo è il risultato raggiunto al termine della riunione convocata oggi all'Aquila dall'assessore con delega ai contratti di fiume Dino Pepe tra i comuni di Cellino Attanasio e di Castellalto, la provincia di Teramo, ed esponenti di comitati locali. L'opera, che risale alla prima metà del secolo scorso, mostra i segni del tempo e risulta inadeguata a supportare il sempre maggiore volume di traffico sia per le ridotte dimensioni della carreggiata, sia per le precarie condizioni delle strutture in cemento. I locali vogliono assolutamente costruire un nuovo ponte, un ponte più a valle, voluto non solo dalle amministrazioni comunali di Castellalto e Cellino Attanasio, ma anche da un comitato che ha raccolto oltre 3.000 firme e queste firme sono state consegnate al Presidente D'Alfonso nel mese di luglio. Oggi qui abbiamo convocato una riunione importante tra la provincia, il comitato, le due amministrazioni comunali coinvolte e gli uffici regionali perché questo ponte sarà finanziato con 6 milioni di euro erogati dalla nostra regione. La fattibilità del progetto è sostenuta dalle comunità di Castellalto e di Cellino Attanasio che hanno accolto positivamente la proposta dell'assessore regionale definendola rispondente alle esigenze della popolazione e del sistema industriale e produttivo del medio-tordino e del medio-vomano. Assolutamente sì, lì è presente un'area industriale molto forte e quindi questo ponte consentirà a dare dei servizi importanti sia a livello viario, sia a livello ambientale, sia a livello di rischio idraulico e soprattutto di servizi alla comunità locale. Il personale del comando stazione forestale di Atri nell'ambito dei controlli sui corpi idrici nei giorni scorsi ha accertato a pochi metri dall'alveo del fiume Vomano l'abbandono incontrollato di rifiuti costituiti da materiali di risulta. Dalle prime indagini svolte è emerso che i rifiuti provenivano da interventi edilizi in corso presso un capannone sito nell'area industriale di Scerne di Pineto che risulta essere sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale. Si è proceduto al sequestro dell'area e alla conseguente denuncia all'autorità giudiziaria dei responsabili. Grande commozione ha suscitato l'istituto zoprofilattico Giuseppe Caporale di Teramo e nel mondo universitario della ricerca la notizia della scomparsa oggi della dottoressa Cinzia Principe ricercatrice dell'istituto che ha perso la sua dura battaglia contro il male. Il direttore sanitario dell'istituto Savini ha voluto esprimere a nome suo e dei colleghi tutta la sua vicinanza per una grave perdita umana e professionale. La salma è stata accolta in una camera ardente allestita all'interno dell'istituto zoprofilattico. L'ultimo saluto alla dottoressa Principe domani con i funerali in programma alle 16 nella chiesa di San Berardo a Teramo. È scomparso ieri sera per l'infarto anche Gabriele Martella, 51 anni, ex assessore e imprenditore di Pineto. Più volte consigliere comunale, assessore allo sport, alla polizia municipale, al personale e alla pubblica istruzione. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di Sant'Agnese e ci sarà anche il gonfalone della città di Pineto, listato a lutto. Sono nove gli indagati dell'inchiesta che ieri ha portato all'arresto del superdirigente della regione Antonio Sorgi per l'appalto sull'ampliamento del cimitero comunale di Francavillo al Mare. Tra i nomi eccellenti anche quello del sindaco del comune teatino Antonio Luciani. Il servizio. Nell'inchiesta diretta dalla procura dell'Aquila gli indagati sono in tutto nove. Tra gli indagati eccellenti il sindaco di Francavillo al Mare Antonio Luciani che ieri ha ribadito la sua totale stranità dei fatti. Per gli altri da una parte ci sono gli imprenditori Giovanni Baccarini e Antonio Di Ferdinando e Roberto Livieri, 55 anni di Giulianova, dirigente del comune di Francavilla. Dall'altra gli imprenditori De Cesaris e Marramiero, presidente degli industriali di Pescara per presunti abusi nella presentazione della domanda di partecipazione al bando. In mezzo il sindaco Luciani appunto indagato per gli stessi reati di De Cesaris e Marramiero e un'impiegata dell'ufficio protocollo del comune. E intanto hanno negato ogni addebito due degli indagati. Antonio Forese, dirigente dell'amministrazione provinciale di Pescara in comando presso il comune di Francavilla al Mare e Graziano Cialfi, responsabile di posizione organizzativa del servizio programmazione e gestione del territorio dello stesso comune, sono stati interrogati nel tribunale dell'Aquila. Sarà fissato invece domani il calendario delle date in cui verranno ascoltati sempre dai pubblici ministeri gli altri indagati, gli arrestati ai domiciliari Sorgi e Antonio Giordano, architetto del comune di Francavilla. In questo caso si tratterà invece di interrogatorio di garanzia alla presenza del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Romano Gargarella. Sorgi è assistito dall'avvocato Guglielmo Marconi del Foro di Teramo. All'indomani di questa operazione Resole che ha portato all'arresto di Sorgi, il forum abruzzese dei movimenti per l'acqua chiede più trasparenza e partecipazione nelle procedure di valutazione di impatto ambientale. Vediamo. Anni di opacità e funzionamento non lineare nelle valutazioni di impatto ambientale di tutte le più grandi e controverse opere sul territorio abruzzese. Decisioni prese in fretta all'Aquila in stanze dove in poche ore venivano liquidate questioni molto complesse e poi istruttorie tenute da non esperti in materia e membri del comitato via che addirittura non ricevevano i progetti. Alla luce dell'arresto dell'alto dirigente della regione Abruzzo Antonio Sorgi, il movimento abruzzese dei forum per l'acqua accende le luci sulle lacune dei regolamenti che sovrintendono al funzionamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale in Abruzzo. Che noi abbiamo criticato l'operato di Sorgi non per ragioni di rilanza penale, in realtà poi qualche sposto è stato fatto, però poi quello è la magistratura a doverlo decidere, e che non funzionava il comitato via. Quando il comitato veniva convocato con 30 progetti all'ordine del giorno, secondo voi può essere deciso in maniera normale il futuro di un progetto? Secondo noi no, dando pochi minuti per ogni progetto. Il dirigente Sorgi è intervenuto molto pesantemente anche su procedure di formazione delle leggi regionali. In materia sicuramente ci sono gli aspetti di criticità, peraltro anche in alcuni progetti come PowerCrop valutati dal comitato via regionale. Quindi noi riteniamo che l'arresto di Sorgi, al di là di quello che poi accadrà rispetto a questo procedimento, è un campanello allarme enorme per le procedure di valutazione di impatto ambientale, che devono essere normate in maniera tale che eventuali episodi di questo genere non possano ripetersi. Presente anche l'ex consigliere regionale di rifondazione comunista Maurizio Acerbo, la cui proposta di legge che rendeva obbligatori i sopralluoghi, i struttori competenti, e intendeva contrastare la lottizzazione nei parchi, venne affossata e è stato ricordato in conferenza proprio da Sorgi. In consiglio regionale e anche insomma nelle discussioni, nelle commissioni, noi abbiamo sempre posto in luce che questo beniamino di centrodestra e di centrosinistra aveva nelle sue mani troppo potere e che lo usava con una discrezionalità che era francamente preoccupante. Andiamo adesso a Pescara dove la maratona si è conclusa con l'approvazione infatti dell'ultimo maxiemendamento della maggioranza sui nuovi tagli e la bocciatura del subemendamento delle opposizioni. C'è stato il via libera definitivo al bilancio 2014 del Comune di Pescara. Oggi a Palazzo di Città la conferenza stampa congiunta della minoranza. Domani sarà l'esecutivo a presentare il documento. Vediamo. Bilancio approvato con 21 voti favorevoli dei consiglieri della coalizione di centrosinistra e 10 contrari di Forza Italia, Pescara Futura, Nuovo Centrodestra e Movimento 5 Stelle è passato il bilancio di previsione 2014 e il bilancio pluriennale relativo all'annualità 2014-2016. Come scalare l'Everest ha commentato soddisfatto il sindaco Marco Alessandrini ma l'opposizione non ci sta e in una conferenza stampa congiunta centrodestra Movimento 5 Stelle ha parlato questa mattina di provvedimenti lacrime e sangue salvo poi annunciare a giochi ormai fatti l'arrivo in extremis di ben 2 milioni e 112 mila euro dal MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze per le partite arretrate dell'Imu. A fronte di qualcosa di bizzarro che è avvenuto nei giorni scorsi e cioè dopo i grandi pianti da parte della maggioranza, dopo aver sobbissato di tasse tutti i pescaresi si è scoperto magicamente che invece l'amministrazione comunale ha una sopravvenienza che arriva dallo Stato di oltre 2 milioni di euro e allora noi abbiamo denunciato con forza questo fatto e cioè che poteva essere reso noto questo dettaglio non di secondo piano prima di assumere tutte le iniziative che sono state assunte in particolare con l'aumento al massimo dell'addizionale IRPEF e quindi questi 2 milioni e oltre di euro potevano essere in qualche modo ridati alla città attraverso le minoritasse, cosa su cui noi combattiamo fortemente. Una maggioranza che schiaccia l'opposizione, che come sempre chiede collaborazione ma poi non valuta neanche il lavoro che viene proposto. Sono stato un uomo libero fino ad oggi ed intendo restarlo anche senza fascia tricolore. Con queste parole il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico in seguito alla spaccatura interna a Forza Italia e la città è ancora sotto shock. Vediamo. Montesilvano si sveglia ancora frastornata. Ieri pomeriggio il primo cittadino Francesco Maragno, eletto lo scorso maggio con il nuovo centrodestra sostenuto da Forza Italia alcune liste civiche, ha clamorosamente rassegnato le proprie dimissioni. La decisione al termine del Consiglio Comunale, in cui la maggioranza è andata sotto nella votazione per il rinvio della discussione sul bilancio al prossimo 8 ottobre, provvedimento voluto dall'opposizione per permettere agli uffici tecnici di valutare gli oltre 200 emendamenti presentati. La giunta, al contrario, intendeva discutere immediatamente il testo. Al momento del voto, cinque consiglieri di Forza Italia, Deborah Comardi, Manola Musa, Antonio Agliano, Stefano Di Blasio e Claudio D'Aventura hanno votato insieme alla minoranza, consumando una rottura, le cui prime crepe si erano intraviste nei giorni scorsi, quando, stando ad alcuni in retroscena, i dissidenti di Forza Italia avrebbero richiesto a Maragno due nuovi assessorati e posti di comando nel CDA della controllata azienda speciale. I dissidenti ora minimizzano l'accaduto, solo un apprezzamento all'operato della minoranza, ha dichiarato Agliano, ma il coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, ha immediatamente sfogato la sua rabbia, deprecando in una nota l'accaduto e minacciando l'espulsione della fronda. Ora Maragno ha venti giorni di tempo per revocare le dimissioni e l'auspicio di maggioranza e opposizione è quello di evitare l'ennesimo commissariamento a soli quattro mesi dall'insediamento dell'ultimo governo. Sarebbe il colmo arrivare al terzo commissariamento. Penso che non accade o non è accaduto in tante altre città. Io spero nel gesto di responsabilità da parte di qualcuno che questa amministrazione che ha una vita, ha avuto fino a un periodo breve di amministrazione, è vero, però possa riprendere il suo corso. Quindi il mio invito è nuovamente di tornare sui passi e vedrà che le cose cambieranno nel modo migliore per la città. Non si può tornare ancora col commissario dopo appena tre mesi di insediamento. Veramente deve sforzarsi per riprendere in mano il timone della città per il bene dei cittadini, non per il bene della politica, della poltrona, ma solo per il bene dei cittadini. La provincia realizzerà i lavori di ristrutturazione del tetto dell'istituto tecnico commerciale Moretti di Roseto che ha patito per anni problemi strutturali creando seri problemi all'edificio. Sono infatti arrivati i soldi per l'avvio dei lavori. Vediamo. Partiranno a breve i lavori di ristrutturazione del tetto dell'istituto tecnico commerciale Moretti di Roseto per un importo di 870 mila euro. Il progetto del Moretti è l'ultimo di una serie di lavori e di investimenti riguardanti l'edilizia scolastica per la quale la provincia di Teramo ha investito circa 7 milioni e mezzo di euro. Una somma che si aggancia alle somme straordinarie che abbiamo avuto perché siamo stati capaci progettualmente. Se basti pensare alle somme avute con il decreto del fare, circa 850 mila euro per due progetti, quando l'intero ammontare regionale è di 4 milioni, questo la dice lunga sulla capacità del nostro ufficio tecnico e sulla bravura. Siccome c'era questa annosa sul tavolo questione del Moretti di Roseto e qualcuno ha voluto impropriamente creare una polemica e anche creare un'immagine negativa a chi invece ha sviato le polemiche proprio per lavorare nella giusta maniera. E non parlo solo dell'assessore, parlo di tutto l'ufficio, a partire dal direttore Tittarelli, compreso gli altri tecnici. Lei con una battuta ha parlato di fondi riesumati, che significa? Riesumati perché è stata una devoluzione di somme giacenti. Noi abbiamo colto l'occasione di preparare subito il progetto, di avere a disposizione subito il progetto proprio perché c'era questa possibilità. Risco chiusura per lo storico bar del Cine Teatro Comunale. Il gestore Augusto Ferrante spiega Per ora aspetto la sentenza d'appello per la causa con il Comune, che dal 2009 non vuole rinnovarmi il contratto di affitto. Sentiamo il servizio. Lo storico bar del Cine Teatro Comunale di Teramo non chiude. C'è una causa con il Comune, ma il gestore è in attesa dell'esito dell'appello? Sì, esatto. Sono in attesa dell'appello e vedremo cosa deciderà. Lei da quanti anni gestisce questo bar? 54 anni. E cosa è successo con il Comune? Ma non lo so, sinceramente non ci ho capito niente. Evidentemente sono interessato per altre cose. Non mi hanno voluto rinnovare il contratto, quindi dal 2009 che cerco di chiarire le cose, ma non ci sono riuscito. Si parlava di una chiusura praticamente immediata su disposizione del giudice, non è così? Beh, oddio, il giudice di Teramo sì, ha detto queste cose, però mi sono subito appellato per cui adesso attenderemo l'appello. Dunque, i tempi quali sarebbero? Ma io spero presto, insomma, entro il 2015, di riuscire a chiarire la cosa. Lei che tipo di chiarimento dovrebbe avere con il Comune? Qual è il motivo del contendere? Ma non so proprio niente. Io spero che mi rinnovi il contratto. Lei resterebbe comunque ancora per altri anni a lavorare? Sì, sì, sicuramente. Quindi mi auguro che mi venga concesso e vada avanti. Getta i rifiuti senza rispettare le regole della porta a porta. Quindi un terramano è stato mutato dai vigili urbani di Teramo. L'episodio si è verificato in mattinata in uno spazio compreso tra i quartieri di Villa Mosca e Colle Atterrato. Il cittadino è stato individuato a seguito di un appostamento degli agenti della Municipale che hanno emesso un verbale a carico del trasgressore. La sanzione, come stabilito dalla norma, varia dai 300 ai 3.000 euro. Meno tasse sui rifiuti e agevolazioni per il sociale, le imprese e la lotta al randaggismo. Il Comune di Campli ha approvato ieri in Consiglio il nuovo regolamento sulla Tari. La maggiore novità riguarda il taglio delle tariffe per le utenze domestiche, ridotte per tutti del 5%. La riduzione è stata possibile grazie al recupero di 50.000 euro di tariffe non versate nel corso degli anni precedenti. Tra le altre agevolazioni previste c'è l'esenzione dalla Tari per gli anziani con più di 90 anni e i cittadini che usufruiscono della legge 104. Introdotto anche uno sconto del 50% per le nuove attività che investono nel territorio di Campli e che potranno inoltre già beneficiare dell'esenzione totale della Tasi, la tassa sui servizi indivisibili per i primi due anni di attività. Confermate infine le detrazioni di 250 euro per chi adotta un cane. Un giovane centavo di nazionalità cinese è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di reanimazione dell'ospedale civile Mazzini di Teramo dopo essere stato coinvolto in un incidente con la sua motocicletta a Ripattoni di Bellante nel pomeriggio. Il 24enne nella caduta da un mezzo a due ruote ha riportato gravissime fratture facciali a un polso e una gamba. È stato soccorso e trasferito a Teramo dal personale del 118 e qui i sanitari lo hanno ricoverato in prognosi riservata. È trascorto oltre un mese dalla designazione del Consiglio di Amministrazione della Teramo Ambiente ma il nuovo presidente nominato ancora non prende possesso del suo ruolo. Pierluigi D'Antonio attende l'autorizzazione ministeriale ma i tempi si allungano e anche le dichiarazioni del nuovo procuratore di Teramo non depongono per una soluzione positiva. Sentiamo il servizio. Dal 19 agosto, data in cui è stato designato dall'Assemblea dei Soci, ad oggi Pierluigi D'Antonio non ha ancora assunto l'incarico di nuovo presidente della Teramo Ambiente. Il CDA incarica il regime di prorogazio resta quello presieduto da Fernando Cantagalli con l'amministratore delegato Luca Ranalli e due consiglieri Andrea Arpano e Corrado De Iulis. L'intoppo è nulla osta che il Ministero di Grecia e Giustizia deve concedere ai suoi dipendenti per autorizzare all'esercizio di altre funzioni. Il presidente D'Antonio, indicato dal sindaco Brucchi in rappresentanza della parte pubblica è infatti cancelliera della procura di Teramo con ruolo di direttore amministrativo e dunque, finché non riceverà l'autorizzazione del Ministero, il suo mandato non può iniziare e con lui nemmeno quello dell'ingegnere nucleare teramano Pietro Bozzelli indicato come consigliere del CDA insieme a D'Antonio. Il nulla osta era atteso in tempi brevi, un mese al massimo invece ci sono state lungaggini che potevano essere giustificate inizialmente con la pausa estiva di agosto e anche con i tempi dei ministeri, notorialmente biblici ma adesso su questo ritardo potrebbe facciarsi un ulteriore dubbio. Quanto influirebbe sulla carenza del personale del Tribunale di Teramo il suo distacco? Emblematiche a tal proposito potrebbero essere le dichiarazioni del nuovo procuratore capio Antonio Guerriero. Ascoltiamole. Noi abbiamo che da oltre 18 anni non vengono fatti nessun concorso per Cancellieri. Il Cancellieri ormai è una specie via di estinzione. I Cancellieri sono in estinzione per Guerriero, dunque forse più utili altrove. Potrebbe questo essere un'ulteriore complicazione per la presa a possesso della presidenza della Team? Chissà. Nel frattempo però la municipalizzata vive un regime di prorogazio a cui nessuno avrebbe pensato, vista la grande pubblicità e l'ecomediatica che la stessa amministrazione Brucchi aveva dato alla ricerca e alla nomina di un nuovo CDA. Via Muzzi a Teramo è chiusa da tre mesi. Una chiusura che gli abitanti e gli esercenti della zona non si spiegano. Sulla strada insiste un vecchio palazzo in decadimento ritenuto pericolante. Da giugno è stato ricoperto interamente con una impalcatura e contestualmente il vicolo è stato chiuso. Gli esercenti della zona chiedono intanto perché la strada è completamente sbarrata e soprattutto denunciano la mancanza di segnaletica di esecuzione dei lavori. Sostengono di aver avuto risposte né dal comune né tantomeno dal proprietario del palazzo. È polemica a Teramo per la decisione di trasferire la sede dell'URP, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, nella sala espositiva di Via Nicola Palma. Portavoce della protesta è Alberto Melarangelo, secondo cui questa scelta penalizza gli artisti e non costituisce un risparmio per il comune. Sentiamo l'esponente del Partito Democratico. Contestazione all'amministrazione comunale muove il segretario del PD Alberto Melarangelo dopo aver appreso il trasloco dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico nei locali della sala espositiva di Via Nicola Palma. Un trasferimento che dovrebbe completarsi entro dicembre e che è inserito nel più ampio piano di riorganizzazione degli uffici comunali che la Giunta Brucchi si appresta a varare per ridurre le spese dei fitti passivi nei capitoli di bilancio. L'idea dell'URP in Via Nicola Palma non piace a Melarangelo che parla a nome del gruppo comunale del PD per esprimere disappunto contro un provvedimento che punisce la cultura e la libertà di espressione degli artisti terramani. La sala espositiva, dice Melarangelo, è l'unico spazio pubblico a disposizione degli artisti. Perché mortificare la loro espressione con questa occupazione? Le necessità di bilancio non convincono Melarangelo dal momento che per la sala espositiva il canone di affitto pagato da chi chiede di fruirne si aggira sui 150 euro a settimana. Il comune giustifica di dover tagliare le spese, conclude Melarangelo. Intanto si priva di locali da cui potrebbe maturare utili visto che gli artisti pagano per esporre le loro opere. E' un ennesimo sfregio alla cultura da parte di un'Aggiunta che non ha mai colto in questo comparto possibilità di rilancio. Alcuni studenti dell'Istituto Alberghiero di Poppa di Teramo ambasciatori del gusto a Londra dove hanno esportato i piatti della cucina teramana ed abruzzese nella nota catena di ristoranti Fratelli la Bufala a Piccadilly di cui è comproprietario il capitano della nazionale italiana campione del mondo di calcio Fabio Cannavaro. I due studenti accompagnati dai docenti Gianni Calandrini e Patrick Marozzi sono stati premiati in sala consigliare dal sindaco Maurizio Brucchi e dalla preside Katia Caterina Provvisiero. Dieci studenti dell'Istituto di Popparozzi di Teramo hanno avuto una grande opportunità cucinare a Londra piatti tipici teramani. Sì, nell'ambito di un progetto ministeriale questa è la seconda edizione appunto hanno fatto questa bellissima esperienza a Londra hanno preparato due menu menu tipici della cucina teramana sono stati molto apprezzati è stata apprezzata la loro competenza sia dal punto di vista della cucina della qualità dei prodotti ma anche della loro serietà nel comportamento nell'organizzazione della sala e quindi grazie anche ai bravissimi docenti professor Calandrini e Marozzi insomma professionisti molto seri che hanno dato a questi ragazzi la possibilità di partecipare a un progetto che io definirei di eccellenza cioè una scuola professionale dove si è realizzato un progetto di eccellenza che dunque si dà la possibilità a questi ragazzi anche di fare esperienze all'estero il di Poppa insomma continua a crescere sempre di più sì, io devo dire che sono stata appena nominata in questa scuola e ho capito che è una scuola veramente che sta crescendo tantissimo dove sono stati messi in progetto tante cose importanti che stanno veramente portando questa scuola verso l'eccellenza perché questi sono progetti che richiedono molte competenze quindi competenze linguistiche, organizzative quindi i ragazzi ecco finalmente hanno capito che scegliere questa scuola significa anche poter scegliere anche l'eccellenza Ennio Batescianni l'amministratore della società di linea informatica che gestisce i 5 impianti sportivi di Teramo fa chiarezza sulla polemica con la pentabasket per l'utilizzo e la gratuità dell'impianto sentiamo l'intervista di 24 società che oggi operano nei 5 impianti datici in concessione al comune 23 stanno regolarmente lavorando allenandosi, operando una sola no la società è il pentabasket Teramo in merito a questa storia escono diverse informazioni anche diverse chiacchiere non controllate che sinceramente mi dispiacciono e su cui desidero fare chiarezza la società pentabasket dall'inizio prima ha detto che non riconosceva la nostra aggiudicazione e poi penso che mi hanno fatto le loro verifiche e mi hanno controllato che è tutto quanto regolare poi ha posto alcune tematiche alcune tematiche che sono state tutte quante tutte, nessuna esclusa tipo non volevano pagare in anticipo e quindi va bene pagare in anticipo e abbiamo tolto questa norma non volevano prestare il deposito cauzionale abbiamo tolto l'articolo del deposito cauzionale e volevano avere chiarezza sulla gratuità delle partite e infatti proprio pochissimi giorni fa in una riunione con il sindaco e l'assessore e pentabasket gli è stato chiarito che effettivamente la delibera fatta nel 2012 intervenuto l'ex assessore dell'epoca ha chiarito che intendevano tutte le partite gratuite quindi sanno perfettamente che le partite non saranno pagate però poi è uscito sulla stampa dicendo che a Batesciani di cerca 180 euro a partita questo fatto mi dispiace perché poi passa un messaggio che sembra che noi non vogliamo far giocare il penta io come Ennio Batesciani e come Terramano sono felice che il penta giochi perché è una società di basket perché io sono anche vicino sono dirigente responsabile di un'altra società lo facciamo tutti per hobby da noi non c'è proprio lucro su questo e quindi il derby è un momento bello è un momento di sport importante quindi l'ultima cosa che desidero è che Penta non faccia basket non ho nulla contro questa società però non è anche giusto che dando delle mezze verità o delle informazioni non corrette si crei nel pubblico nelle persone che ascoltano un'idea sbagliata noi aspettiamo Penta tutto quello che ha chiesto gli è stato concesso se non vogliono entrare negli impianti la colpa non è mia gli impianti sono lì a loro esposizione adesso prima di passare alla pagina sportiva vediamo le previsioni del tempo il servizio è curato previsioni in Abruzzo al mattino e dopo il tramonto cielo in prevalenza nuvoloso con deboli piogge nel pomeriggio molto nuvoloso o coperto con locali fenomeni temporaleschi temperature in diminuzione massime comprese tra 19 e 22 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 22 e 25 gradi sulle pianure adriatiche venti deboli settentrionali mari quasi calmi in provincia di Teramo al mattino nubi e piogge in transito con rovesci localmente anche a carattere moderato tra pomeriggio e sera graduale esaurimento dei fenomeni con schiarite a partire dalle aree costiere in nottata locali rasserenamenti sui settori orientali permanenza di addensamenti lungo la dorsale appenninica temperatura insensibile e diminuzione massime comprese tra 21 e 24 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 22 e 25 gradi sulle coste venti deboli o moderati settentrionali mari poco mossi calcio in apertura siamo nella fase di avvicinamento all'attesissimo derby tutto l'abruzzese tra Teramo e l'Aquila che lo ricordiamo si giocherà allo stadio Bonolis domenica alle ore 15 tra i biancorossi sono in dubbio tre giocatori Serraiocco, Brugaletta e Donnarumma i primi due sono alle prese con influenza l'attaccante invece deve smaltire un problema al piede sinistro la situazione più delicata è proprio la sua se non dovesse farcela Donnarumma dovrebbe esserci Petrella pronto a giocare nel ruolo di seconda punta ora parliamo di calcio giovanile in questo servizio andiamo a vedere come è andata la terza giornata dei campionati nazionali Berretti, Allievi e Giovanissimi in cui sono impegnate le squadre del Teramo Calcio la terza giornata dei campionati giovanili nazionali delle squadre biancorosse è andata in archivio con due sconfitte la Berretti ha osservato il turno di riposo e quindi non ha giocato restando così a quattro punti in classifica per gli Allievi invece è arrivata una sconfitta contro la Lupa Roma che in casa è riuscita ad imporsi per 1-0 i biancorossi hanno comunque disputato un ottimo match procurandosi 5-6 palle gol che però non sono riusciti a sfruttare fino in fondo a causa della mancanza di lucidità sottoporta dopo queste prime tre gare secondo gli addetti ai lavori la sensazione è che la giovane squadra teramana possa disputare un eccellente campionato togliendosi anche qualche soddisfazione passando ai giovanissimi contro la Roma Campioni d'Italia i piccoli diavoli hanno perso 4-0 al Bonolis di Teramo in un incontro senza storia sorprendenti i giallorossi per disciplina tattica e qualità tecnica nonostante la giovanissima età i ragazzi di Mister Pierleoni non hanno accettato il ruolo di comparsa cercando lo stesso di fare il gioco al cospetto di un avversario decisamente più forte e che ha poi legittimato sul campo il sonoro 0-4 il prossimo turno di campionato vedrà sabato 4 ottobre alle 16 la Berretti Biancorossa di scena allo Stadio dei Marmi 4 Olimpionici Azzurri contro la Carrarese gli allievi invece se la vedranno in casa al Bonolis di Teramo con il Delfino Pescara domenica 5 ottobre alle 10.30 infine i giovanissimi saranno ospiti presso il centro sportivo Gianni della Rupa Roma in serie di registriamo il colpo di mercato del San Nicolò la società del padron di Giovanni ha messo sotto contratto Mattia Santoni centrocampista classe 1984 che nella scorsa stagione ha giocato con le maglie di Maceratese e Fermana Santoni nel suo curriculum ha una grande esperienza in queste categorie e ha vinto anche tre campionati nel 2004 a Morrodoro nel 2011 ad Ancona nel 2013 a San Benedetto del Tronto il giocatore sarà a disposizione di Mr. Epifani già dalla prossima partita a Casalinga contro Immaterica che lo ricordiamo si giocherà in anticipo il fischio d'inizio è previsto infatti per le ore 16 di sabato 4 ottobre passiamo adesso al basket perché a Campri è nata una nuova società che parteciperà al campionato di serie C regionale tra gli obiettivi di questa neonata realtà c'è quello di far crescere i giovani ragazzi farnesi ascoltiamo il presidente Di Carlo il 4 ottobre parte il campionato di basket di serie C1 regionale ai nastri di partenza anche la nuova basket Campli per voi è un'esperienza nuova siete una nuova società la nuova basket Campli è nata e ci sarà e questo al di là di ogni sterile e secondo me inutile anche polemica nei vari comunicati che ci sono stati perché la necessità di creare una nuova società quando Campli è una società storica di basket? allora quello che noi ci prefiggiamo noi della nuova Campli Basket è quello di portare avanti di dare inizio ad un progetto sportivo sociale ben strutturato saldo sul territorio che possa finalmente dare la possibilità ai tanti giovani locali di giocare a pallacanestro e di mettersi in mostra in campo al di là e a prescindere dalla categoria in cui si gioca è nato nella vicina Santonofrio un centro di mini basket che è diretto dall'istruttore federale nonché ex capitano e attuale giocatore della nuova Campli Basket Giovanni Di Carlo quindi diciamo delocalizzazione, decentralizzazione del mini basket a Santonofrio e sviluppo dell'integrazione sociale nel territorio tra i giovani del posto e intanto si parte come dicevamo il 4 ottobre in questo campionato di serie C1 regionale un campionato anche importante qual è il roster? Allora, il roster della nuova Campli Basket è il coach, una vecchia conoscenza del Campli Basket che è il signor Alessandro De Usagno preparatore atletico, un'altra mi hanno detto di non dire vecchia e io rispetterò un'altra conoscenza del Campli Basket Alessandro della Loggia i giocatori capitano Pancrazio Gentili Giovanni Di Carlo Antonio Nardi, Luca Nardi Mattia Costantini Antonio Girella Marco Bonasorte il grande Francesco Conti il Duva Riccardo Duva la new entry il lungo Renato Piccinini Stefano De Usagno Davide De Usagno e Matteo Di Polidoro chiedo scusa se ho tralasciato qualcuno bene questo era l'ultimo servizio di questa edizione del Tg di Teleponte io vi rinnovo l'appuntamento all'edizione di domani alle ore 14 vi auguro la più cordiale e buonasera e loi un'altra un'altra Grazie a tutti.